Perché sono molto felice perché nessuno mi aveva mai organizzato come dire una festa sorpresa Nessuno ti aveva dato un cazzo del genere? Hai avuto culo? Ah vabbè un pene di queste dimensioni onestamente... Anche se è un po' curvo ti dà un salto male Praticamente è possibile Ecco è la nuova scientifica Arriva al punto sì Adesso a sinistra E poi che dire Ho ricevuto dei bellissimi regali E niente Grazie a tutti soprattutto dei regali E se c'è una disaprita E se c'è una disaprita E se c'è una disaprita Gina Ah Gino sta all'angelo Grazie a tutti Grazie a tutti